Con il senatore Pittoni per parlare di reclutamento, in questi giorni sindacati e governo si incontreranno per mettere a punto i dettagli dei pass che probabilmente saranno la modalità per chi della terza fascia deve abilitarsi. Che cosa bolla in pentola, senatore? È quasi pronto il secondo ciclo pass dopo quello del 2013 che ha avuto ottimi riscontri e ci sarà anche un percorso che può portare chi supererà le prove al ruolo. Chiaramente quest'ultimo è legato ai posti disponibili per cui non tutti, almeno in questo primo anno, potranno arrivare alla stabilizzazione, comunque lavoriamo perché questa possibilità sia garantita a tutti. Dunque c'è un processo in atto che durerà qualche anno per stabilizzare tutti i precari? La nostra intenzione è di superare il problema del precariato storico. Ottimo, la ringrazio senatore, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.